Cinque anni di reclusione. E' questa la condanna chiesta dal PM della Procura di Bari, Francesco Bretone, per Francesco De Grandi, funzionario dell'assessorato Industria e Innovazione Tecnologica della Regione Puglia. Imputato per il reato di concussione, De Grandi è accusato di aver intascato dal 2006 al 2008 circa 770 mila euro sotto forma di tangenti per facilitare le pratiche di alcuni consorsi turistici che volevano accedere ai finanziamenti regionali. Nell'inchiesta è coinvolto anche il figlio del funzionario, Vito De Grandi, per il quale il pubblico ministero ha chiesto una condanna a due anni e otto mesi ed una multa di 2000 euro. L'accusa, mossa al giovane, è quella di aver reimpiegato denaro provento da attività illecita, intascando parte dei soldi riscossi dal padre, circa 324 mila euro, versandoli sui conti correnti bancari intestati all'oleificio di cui è titolare. Ad incastrare il funzionario regionale le dichiarazioni di due imprenditori baresi, Roberto Valtersisto e Francesco Morrone, entrambi partecivili nel processo insieme con la stessa regione Puglia. I due hanno quantificato i danni morali subiti in 10 mila euro, mentre la regione ha chiesto al tribunale di condannare i due imputati ad un risarcimento pari a 1 milioni e 125 mila euro tra danni morali e patrimoniali. Nell'ambito di questa inchiesta, De Grandi venne arrestato nel giugno 2010, mentre nel novembre dello stesso anno venne sequestrato il frantoio del figlio a Cassano delle Murge, su disposizione della magistratura barese. La sentenza è prevista per il 13 novembre prossimo.